L'Istituto Tecnico Superiore Cosmo, istituto che specializza gli studenti in calzatura, moda e ureficeria, ha aperto le sue porte per far conoscere alle aziende e agli studenti opportunità e prospettive di un corso che a un anno dal diploma fa riscuotere un tasso di occupazione che va oltre il 90%. Si tratta di un corso biennale che si svolge in quattro semestri e prevede lezioni teoriche e pratiche di laboratorio. Al termine del corso di studi, l'allievo ottiene il diploma di Tecnico Superiore di Valore Europeo, spendibile in ambito nazionale e dell'Unione Europea, e gli consentirà di pianificare, realizzare, gestire e controllare progetti, sviluppare processi tradizionali e innovativi finalizzati alla produzione. Sette aree tecnologiche e strategiche per lo sviluppo economico e la competitività. 2.000 ore di corso in due anni, 40% del tempo dedicato ai tirocini formativi, 8 sedi distribuite su due regioni, oltre il 50% dei docenti, appartiene al mondo aziendale per garantire una formazione completa ed equilibrata. Se le istituzioni non fanno questo, non sono istituzioni. E io ho sempre detto che dobbiamo creare collegamenti, dobbiamo creare i punti tra la scuola e il mondo del lavoro. Oggi non c'è un problema di lavoro, non c'è un problema occupazionale, c'è un problema di occupazione professionalizzata, di personale specializzato. Oggi le imprese che io giro nel territorio della provincia ci chiedono personale specializzato. E se oggi la scuola ordinaria stenta ad entrare nelle aziende, gli ITS sono la risposta della specializzazione di questi ragazzi, un corso post diploma per entrare nel mondo del lavoro, per mettere in contatto la formazione con l'impresa. E poi i risultati danno ragione, quasi il 100% dei diplomati trova subito sbocco nel mondo del lavoro. Questo non fanno gli altri paesi europei, anche a meno sviluppati dal punto di vista industriale, perché non possiamo farle noi. Ed ecco perché la provincia oggi è socia e sostiene l'ITS della moda, così come quello del mecatronico e prossimamente anche quello del turismo, con cui stiamo già parlando con la Camera di Commercio che ci sostiene, così come la Regione.